Ho 21 anni e vengo da Mita di Sorrento, che è un paesino abbastanza isolato da grandi città. Non avevo il raffronto con altri scrittori, altri cantautori o rapper che siano. Non avendo influenze ho potuto svilupparmi con cose che ritengo mie. La scrittura è qualcosa di terapeutico, è uno sfogo. L'idea che io stia creando qualcosa che prima non c'è. A differenza del cantautorato, il rap ha tanto spazio, tante sillabe. Tante cose da dire. Puoi far divertire, puoi far emozionare, puoi far venire i brividi, puoi fare tutto. So che la mia strada è la scrittura. Sto qui più che come interprete, come autore.